ma non sa che le alte temperature fa non vuole propagarsi degli incendi in Calabria, a Stamonte in Piazza il salvaglio di Corsi, come di San Luca in provincia di Greco, Calabria, è quasi isolato si, tre in aria e due due anni sono dietro a causa degli armi ma non vuoi dire che c'è un'acqua ruota, ruota anche nelle manovine no, ma io dai che c'è ma io dai che c'è ma lo vado, mi sto parlando mi sto parlando, mi sto parlando e mi sto parlando e mi sto parlando e se mi pare di più, se mi sono in aria non lo so ma allora se loro non vogliono andare a riniti non c'è ma 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 non c'è e vado sotto e si stima se non vi sono troppo niente la pelle ma credo ah io questa è lajutta non c'è ma credo grazie ma non ci amiche il piano di apportamento è quello dove sta subito la rata e l'interesse della rata e non c'è ma comunque non c'è ah ah Grazie.